È possibile aumentare così gli FPS sul gioco Warhammer 40.000 Space Marine 2 ovviamente se stai riscontrando problemi di lag e vuoi aumentare gli FPS oppure stai andando benissimo ma vuoi ancora più FPS è possibile usare il pannello di controllo di Nvidia per quelli che hanno una scheda grafica Nvidia e soprattutto anche un programmino che ti ho lasciato in descrizione che ti farò vedere dopo. Quindi in questo caso andiamo così a scaricare e installare il nostro programma il pannello di controllo di Nvidia che ti ho lasciato in descrizione lo troverai direttamente qua sotto qui nelle icone oppure puoi scrivere direttamente Nvidia Control Panel. Ovviamente sul pannello di controllo di Nvidia passiamo direttamente a regola di impostazione dell'immagine qui in questo caso ci serve più usa la mia preferenza mettendo il risalto a posto della qualità miglioriamo le prestazioni facendo vedere questi attraverso vicino ai bordi tipo delle piccole sagome che danno anche molto fastidio rispetto anche alla qualità. Quindi se vuoi avere più FPS impostalo su prestazioni se no puoi mettere equilibrata io metterei più prestazioni. Una volta fatto passiamo direttamente a gestisci le impostazioni 3D impostazioni programma e andiamo così a inserire il nostro gioco. Andiamo su sfoglia scendi fino a giù fino a trovare questo pc entra così nel disco dove hai installato il tuo gioco e inserisci il programma .exe. In questo caso come ho detto entri così nella cartella del gioco fino a trovare Warhammer 40.000 Space Marine 2.exe e facciamo apri. Una volta fatto non ci resta che modificare tutte queste impostazioni fino alla velocità di aggiornamento preferita e tecnologia monitor. Iniziamo prima dal ridimensionamento immagine che sarebbe la nitidezza e quindi in questo caso mettiamo disattivato. Se invece lo attivi puoi impostarlo così 25 quindi sul 25% di nitidezza. Però ti consiglio di disattivarlo come ti consiglia anche Nvidia. Antia la scorrezione gamma mettiamo disattivato. Quest'altro mettiamo disattivato. Questo qua possiamo anche lasciarlo stare. Buffering triplo mettiamo disattivato. Scendi fino a giù. Fino a trovare il filtro anisotropico ovviamente questo ci consente di vedere molto bene da lontano e aggiustare anche la grafica. Ovviamente se mettiamo disattivato c'è anche un problema visivo degli oggetti, dell'ambiente, di tutto il panorama da lontano. Quindi sul filtro anisotropico ti consiglio di tenerlo sul 2x. Scendiamo fino a giù fino a trovare il filtro struttura restringimento bordi. Filtro struttura ottimizzazione campione mettiamo disattivato. Scendi fino a giù fino a trovare il filtro struttura qualità mettiamo prestazioni elevate. Scendi fino a giù fino a trovare frequenza fotogrammi massima. Puoi anche attivarlo e boostarlo fino a 1000 fps. Scendi fino a giù fino a trovare modalità bassa latenza mettiamo ultra. Scendi fino a giù fino a trovare gli ultimi 3. Sincronizzazione verticale visto che non dobbiamo bloccare gli fps mettiamo disattivato. Tecnologia monitor. Sietto monitor ha la compatibilità G-Sync. Inseriscilo. Prime D invece il FreeSync. Velocità di aggiornamento preferita metto la più elevata. Disponibile sul mio monitor. Una volta fatto faccio applica. Manteneremo queste modifiche e facciamo sì. Una volta fatto in descrizione ti ho lasciato anche l'altro link che ti porterà a scaricare il pacchetto che si chiama NVIDIA Profile Inspector. Apri percorso file. Lo trascino un attimo sul desktop. Stasso destro sopra e lo estraigo un with RAR. Ed ecco la cartella del programma. Entriamo nel programma. Punto XC. Facciamo sì. E ora. Qua su. Vai a scrivere. Warhammer. Ed eccolo qua. Fortunatamente abbiamo il Warhammer Space Marine 2 su NVIDIA Profile Inspector. Come puoi vedere qua è tutto impostato perché l'abbiamo fatto prima. Scendi fino a giù fino a trovare così. L'antiele sì. In questo qua. L'antiele trasparenzi su per sempre. Questo qua. E ci vai a mettere il 08 doppia mode replay. Scendi fino a giù. Vi trovi texture filtering. Sia di DirectX di OpenGL. Più. 2.7500. Per OpenGL invece è la stessa cosa. Una volta fatto applica. Applica più volte finché non si cambia. Se non ti piacciono queste nuove impostazioni. Puoi semplicemente cliccare qua sopra e ripristini il profilo di Space Marine 2. Chiudiamo un attimo qua. E ora non ci resta che entrare nel gioco. Ora entriamo direttamente sul generale. Scheda video usiamo la nostra. Upscalling lo tengo così. Signalizzazione verticale metto no. Limite FPS metto illimitato. Sfocatura disattivata. E qua invece la qualità. La metto su media. E basta. E applichiamo così le modifiche. Quindi per altri problemi ancora. Puoi commentare sotto al video. Se non ti piacciono queste impostazioni grafiche. Puoi ripristinare tutto. E poi direttamente ripristinare il profilo su Nvidia Profile Inspector. Come ti ho fatto vedere. Quindi grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.